non sono le compite di pittire se non parli per tenere blu b fatta blu badova e lanci le rotine montare i nemici della piattaforma di lanci qualche ogni fase fino al lancio del rato e ma non so se ho un materiale 290 ma cazzo non ci provo 290 ma che s'acqua e micchia ci ho peso 290 posto svolta 290 ma cazzo non è vero nessuno non è brazo che cazzo è quella roba perché ma questa roba non posso buttarla e boh a tipo le chiavi non si possono buttare non è chiaro c'è una minerale di pietà di nero che cazzo mi serve mi dà le cose di ma non dà la mia vita 37 mila di scudo mi ha matato le cose buone però spaventato ecco tutto di sotto è caduto ha tirato qualcuno ea verità strano 9 guarda dove cazzo hanno messo quel coso lì c'è 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 cilice di cene buon madonna dalle varie che cazzo si trova devo difendere sto cazzo io si vede pure il coso ma non ho capito perché devo mettere c'è un razzo qua va bene poi li ricostruisco le cose a molti sono che io non mi chiedo di far perché non magari non mi aveva visto ora ma qui ora ma visto che si si ha capito mattino di gente qua tonnellate di gente cioè io vorrei capire una cosa devo portare fuori che non c'è un pochetto ma non mi stanno soltanto sciottando questi ma così è impossibile ma vabbè ho capito se questo aveva un pregare cazzo non c'è un pochetto non c'è neanche del... eh mo arriva gente cioè certo quando vabbè c'è da... vabbè Dani al mio aiuto è ben accetto dai ma non hai rossi coglioni questi oh che sacroia oh è impossibile immortali proprio oh ma si bambini piccoli hai oltre cazzo bambino si ma capito ma continuano a spawn all'infinito ma stai per uscire dove fai con Gesù sto per uscire qui ancora ma adesso ci entro dentro dentro sto qua entro dentro ovviamente ma dov'è che sto per uscire cioè boh stai per uscire ma poi c'entro dentro con la testa e non poi c'entro veramente dentro con la testa questo qua ma è bello che qualche altro loro un colpo e buttano giù tutto io sono lì che devo stargli addosso il... la vaselina per ammazzarli per un po' ma poi la vaselina gli do staventa addosso ma questi anche le cazzo in uscite allora se non sono quelli giusti ok ma bisogna ma di chi ti 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 sono questo fa un suono ma dove stu c'è ma vaffanculo col cazzo il titelino eh ma lo cazzo la polpa orca miseria però c'è lo figo io anzi aveva ancora qua di trama lo scondato non si sa come fa sfondare tutto ma invece la popolo sono salita poco sono salisse cioè sono lì che devo piazzare giusto no che palla ma perché piazzi qua la madonna la madonna di quelle madonne stronza ho capito ma piazza guarda lo piazza dove vuole lui piazza io sto puntando un punto quello piazzata cioè è come se io piazzarsi qua e quello piazza la in fondo cioè ma che cazzo piazza fa che faccio me ne vado a e vabbè ma come come lo rombo mamma mia non sai che cosa hanno fatto vestito questo sistema di babba culo e vinta cazzo casa mamma mia impossibile ma io non ho capito ma sta struttura soltanto che si rompe da sola immaginavo però che si rompe da solo con la struttura di questa non si rompe mai però ma tu dici che devo fare un mega palazzetto ma no e non capisco già arrivano per i coglioni no a penso che riserva un po del cazzo qua ma lì ma ridotti dobbiamo anche raccogliere il blog per farlo partire e vabbè ma allora l'ho fatto apposta cazzo dove sono? mi sta a faricarti me quindi rompo i coglioni te chiamano te chiamano te scrivono te dicono chiamano da toronto posso fare un cazzo posso fare un cazzo posso fare un cazzo eh lo so che si trasporta purtroppo per i coglioni una faccia no non è di là no 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 Grazie a tutti. 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 Come ti prendi il raso? Io devo ancora far finire qua. Vabbè, io le piazzo mentre vado. Ok, piazziamo sotto. Forza troia. E' un'altra cosa. 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 Mo' solo... E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. No, ma... E' un'altra cosa. No, ma... ma... E' un'altra cosa. 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 è un'altra cosa. E' 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 un'altra cosa. che sparano c'è guarda lì vada mi stanno prendendo ma che cazzo stai a dire ma che cazzo stai a dire infatti è un fattore ma che è che ragazzo? non vedo che fosse un fattore e due ma dov'è il picchio? non lo vedo lui dice che c'è un altro e non lo vedo non lo vedo mi inizio un altro ma vai ma vai ma dov'è il mostro della nebbia? ma questo è un po' di raffa ma un po' di raffa anonimo staranno o staranno staranno no guarda guarda tutte no eliminato questo invece lo fa a fare grazie poi dai tutti avete lo cerchiato le bombe in faccia li tira fuori madonna ma che buon bello qualcuno è morto qua via 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 adesso mi arriva via via vabbè E' esplodo tutto, esplodo E' esplodo Mi hanno fatto il più schifo Abbiamo fatto Mamma mia, mi starebbe avuto il gioco E lui va bagnato Eh vabbè, faccio quello Non posso farlo Mari Ok, mi ha ucciso Eh dai però E' un po' più sale qua Uno, due Tre Ah ma quello è il gioco Dio di uno che suaveva Guardi E' un momento Tu di tutu' tu Tu di tutu' tu Tu di tutu' tu Tu di tutu' tu Basta 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 Eh Guarda quelli tu E io ho butto qua Comunque da quando ha toccato le mini, basta, non è giunto un po' di tempo. No? Eh sì, da quando ha cercato il mini non entra più, no, ma è stato il mini, è stato il mini. Non c'è più, basta. Sì, sì, c'è, boh. Ehi, ragazzo, passa, attenzione, vai in aria. Non vedo, non è forza. Mi senti odio, è mortato, è mortato! Poi, eh, moca di più muore. Mi sono qua, mi sono più di là. Posso farmi proprio il diretto? Che ha 6.000 ho fatto, 6.670 di 640 di roba. Sti cazzo. Uuuuuh, madonna. Finchia, quello rosso. Quello rosso. Quello rosso, la barchetta. Hop, hop, hop di nulla. Uuuuh, che botta. Sarebbe già stata lottata. Andiamo un po'. Un po' di più. 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 Lo sbloccato parte bottino livello 5 Giustamente livello del passo basta non fino a domani non lo posso ma travi tutti Tra l'era di mamma a mani o Facciamo un'altra Buzz blaster shock istinto e arguzia Decollo ho sbloccato oro Non faccio vedere se non l'ho fatto. Io non c'è un cazzo No, di già subito così all'istante proprio Che palle Cioè non posso vedermi la mappa un pochettino no Subito all'istante devo fanno un testa con livello 1 Incrementa capacità risorse costruzione biglietti risorse di conto e risorse di slot